Il progetto riguarda l'educazione alimentare e l'educazione ai sani e corretti stili di vita. È vero anche che attraverso questo strumento si riesce a far capire anche il collegamento con altri aspetti molto importanti della nostra società. Consumare un prodotto interamente prodotto, coltivato o commercializzato in Sardegna da una parte significa avere un qualcosa di sano, qualcosa che viene prodotto in una regione dove i livelli di inquinamento sono bassissimi, significa ridurre l'impatto anche sul sistema globale dell'inquinamento perché far arrivare dei cibi qui in Sardegna dall'altra parte del mondo ovviamente mette in campo il discorso dei trasporti quindi l'utilizzo dei combustibili fossili, mentre invece prendere qualcosa e mangiarlo nel posto in cui si produce significa ridurre i tempi in cui questo prodotto viene raccolto dal momento in cui va sulle tavole significa fare riflette anche quanto importante, questa è una regione come la Sardegna dal punto di vista del sostegno alle attività imprenditoriali, quindi ai coltivatori, agli allevatori sardi e significa quindi far capire ai ragazzi che mangiare bene significa mangiare con gusto significa investire sulla propria salute, significa aiutare anche l'economia della regione significa contribuire a diminuire il riscaldamento globale attraverso la diminuzione dell'inquinamento e dell'emissione di gas serra.